Marina, buon pomeriggio, India Victor, Lima, India Sierra. India Victor, Lima, India Sierra, Marina, buon pomeriggio, avanti. India Sierra, due persone a bordo, diretti a Lucca, via Cecina, Ponte Dera, con quattro ore di autonomia, senza piano di volo. India Victor, Lima, India Sierra, Marina, ci confermate la quota? Sarà 3.500 per il passaggio sul canale, poi 1.000 lungo costa, India Sierra. India Victor, Lima, India Sierra, Marina, pista 3.4, vento zero, 10 gradi, 8 nodi, QNH 1.0.2.8, rullaggio, descrizione, ingresso in pista e contropista, richiamare aleneato 3.4. 1.0.2.8, preferenziale 3.4 e ci spostiamo al punto attesa per le prove motore, India Sierra. Ricevuto. India Victor, Lima, India Sierra, Marina, ci confermate uno stimato per Cecina. Sarà 30 primi, India Sierra. Grazie. India Victor, Lima, India Sierra, pronti al Bravo. India Victor, Lima, India Sierra, Marina, ingresso in pista e contropista, richiamerà aleneato 3.4. Contropista, richiamerà aleneato e pronto 3.4, India Sierra. India, India Sierra, alleneati e pronti 3.4. Indio, correzione, India Victor, Lima, India Sierra, Marina, pista 3.4 libera, vento 3.0 gradi, 8 nodi. 3.4, a discrezione, India Sierra. 2.0 so. 3.5, a discrezione, India Sierra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1-2-5-7-5-0. Grazie, alla prossima. Alla prossima. India, Vittor Lima, India Sierra, buongiorno, l'H1028. 1-0-2-8, abbiamo lasciato l'Elba sul canale a 3.500 in salita per 5.000 diretti a Cecina, a Ponte Nera e rientrare a Lucca. India, India Sierra, sul trasponder inserite 6-2-0-7 e richiamate Cecina 5.000. 6-2-0-7, richiameremo Cecina 5.000 in Nesera. India, Vittor Lima, Nesera, Cecina 5.000 piedi. E' ricevuto per fare rotta diretta per Ponte Nera. Affermativo, diretti Ponte Nera, Nesera. E' ricevuto, richiamate Ponte Nera. Richiameremo Ponte Nera, Nesera. Pisa da India, Vittor Lima, Nesera, prossimi a Ponte Nera, 5.000 piedi. Ricevuto, continuare, avremo il cambio a Luca. Andiamo con Luca, 22.5, ciao, grazie. Ciao. Luca, buon pomeriggio, India, Vittor Lima, Nesera. India, Vittor Lima, India, Serra, Luca, buon pomeriggio, H1028, posizione quota. 1028, Ponte Nera, 5.000 piedi in discesa. Abili a riportare sul Padule, la preferenziale è la 28, 250, 8.9. Riporterà al Padule, preferenziale 28, in Nesera. India, Vittor Lima, India, Serra, Padule, 2.5. Riporta finale 28, Breck, Delta, Chilo Eco, India, Giulia, Tassuola, gli 08, via Charlie o arrivi all'hangar? Angar. Ok, lullaggio fino all'hangar. Vittor Lima, India, Serra, allungo finale, 2.8. Vista, fin da ora, atterraggio 2.8, discrezione, 2.40, 8.9. V8, a discrezione, copiando il vento, India, Serra. Ti fa, ti fa, ti fa, ti fa. 海, che, ti fa, ti fa, ti fa. Dai, che, ti fa. Ai, di fa. De la tua. Dai, che, ti fa. Grazie a tutti.